Hey, Hoxton here. I'm here to say subscribe to Everett the White Spider now. If you don't, you're a fucking wanker. O qualcosa di correlato alle stelle, al cosmo. E tra l'altro domani vi farò vedere cosa ho scoperto per quanto riguarda il piatto di Ossidiana, quell'oggetto esagonale che abbiamo trovato alla Casa Vaste. Per quanto riguarda il drink invece si chiama il clocker, è fatto molto bene, però per il giorno 4 purtroppo è tutto. Se volete vedervi lo stream andatelo a vedere. Ci vediamo domani con l'ultimo giorno dell'evento. Ciao a tutti ragazzi. Ciao a tutti.